Un presunto suicidio e una bambina zannata da un cane randaggio, sono queste le due tragedie accadute ieri nella nostra città. Un uomo di 36 anni trovato carbonizzato e una piccola di 7 anni con una profonda ferita alla testa. Il corpo dell'uomo, Vincenzo Alessio Vazzano, è stato trovato carbonizzato la scorsa notte in via Guia, nel quartiere Nessima. Il cadavere si trovava accanto alla sua macchina, una Ford Ka, secondo gli inquirenti, alla base del gesto estremo ci sarebbero motivi sentimentali. Le indagini affidate alla squadra mobile hanno permesso di risalire all'identità della vittima. La piccola invece è stata zannata alla testa da un cane ieri mentre passeggiava con la nonna incontrata Iungetto. Soccorsa dai carabinieri è stata trasferita in elicottero all'ospedale Cannizzaro. La bambina sarà operata oggi dal professor Rosario Perrotta, che interverrà per riposizionare i lembi strappati dal morso e per ricostruire il cuoio capelluto lacerato. La piccola resterà sotto osservazione per qualche giorno nel reparto di chirurgia plastica e ricostruttiva, dove saranno messe in atto tutte le procedure volte a contenere rischio infettivo. Successivamente i medici scioglieranno la prognosi circa i tempi di guerigione della bimba, che è comunque in buone condizioni generali di salute. Stamattina invece sono state arrestate quattro persone per estorsione. Si tratta di Rodolfo Fichera, Gianni Massaro Galati, Francesco Furnari e Salvatore Torre. I carabinieri della compagnia di Palagonia, coadiuvati da quelli di Acireale e Paternò, hanno arrestato i quattro uomini ritenuti responsabili di estorsione consumata e tentata. Le accuse sono aggravate dall'uso del metodo mafioso, in quanto risultano collegamenti con la criminalità organizzata catanese e destinataria di parte del provento. L'attività investigativa è stata avviata a seguito di una rapina avvenuta il 20 marzo 2013 a danno di un'azienda agricola di Castel di Iudica. Nel corso della rapina, compiuta con modalità violente nei confronti dei dipendenti, sono stati asportati alcuni mezzi agricoli per un valore complessivo di 80.000 euro. Successivamente il titolare dell'azienda è stato contattato per ottenere la restituzione dei mezzi con un pagamento di 6.000 euro, pagamento ripreso dai carabinieri che hanno appunto arrestato i quattro malviventi. Sempre i carabinieri, ma stavolta di mister Bianco, hanno tratto in arresto Giuseppe Torre per furto aggravato. L'uomo infatti ha tentato di rubare 130 litri di gasolio da un auto articolato. Sorpreso dagli agenti è stato posto ai domiciliari. A Bronte, infine, un uomo di 44 anni colpito da un raptus ha danneggiato la casa dell'ex moglie. Colto in flagranza GD, queste le sue iniziali, è stato arrestato dai carabinieri di Bronte per violazione di domicilio aggravata, danneggiamento, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il 44enne si era regato a casa dell'ex moglie per farsi consegnare la loro figlia minore, ma davanti alla resistenza dell'ex coniuge è iniziata a prendere a calcio e a pugni la porta d'ingresso. I carabinieri, chiamati dai vicini, sono intervenuti e l'uomo si trova adesso ai domiciliari.